In Sardinna dai Homo teniamo 6 provincias e 2 città metropolitane. Abbiamo votato le lezze in su usizio e la regione, 30 battos IEI e 7 NO. In Sardinna torneranno ambiare le province. Su usizio regionale ha votato in 30 battos a favore e 7 contrari. Sui ambiare le province in Sizzola. Homo deteniamo 6, nord-est, Nugolo d'Astra, Aristanis, Medio Campidano e Sulci Iglesiente. E due città metropolitane, Tartari e Astiddu. Ambien sa provincia e Nugolo e la città metropolitana di Astiddu. E ora dai 27 a 71 comuni. Canis onza usa provincia di Sassari. Esa zona è basso di Sardinna. Sassessore sui centri locali, che di Cusanna e Nau. In Custalense e Amusatu, si amordano debò a tutti i sindi, a tutte lezze economiche di usos territorios. So senten novos i comuni nas indes e poden sortir a ende unione ombre di provincias. Entro sas 30 dies, i venen a maniare sa lista in Sud-Burias, sas comuni si che poden esire da esaldur a città metropolitana e da esas provincias, presentando una delibera di tutto il suo usizio comunale. Sin betes che oran sas 30 dies, bisogna dare un referéndum in cui stas comuni interessas. In suo usizio regionale ha amperato su pruspo a città metropolitana di Astiddu. Poi teso presidente della regione, Cristian Solinas, era da ponere uno commissario per la seguire. In betes che orde su partito, Fratelli d'Italia, erian e se seguivano a essere Paolo Truzzo, suo dirigente. A posto di tre idari della guerra, ha buscato un accordo. Paolo Truzzo ha dato abbarrato su sindi un metropolitano. Ma poi si ammantabatto, vidas e anazunto, raggiunta da ponere uno commissario, vincere sui 31 da Nadale. In questa città metropolitana di Tattari, a barra sindi o metropolitano non è il campus. Intrò del 31 da Nadale, ha adeperto le salvatazioni provinciali di secondo livello. Abbiamo deciso, e che tirano i due disegnari le concessioni marittime a sas comuni, ha la decisione a questa regione. Grazie. Grazie. Grazie.